ciao a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo video del vostro gentilopazzo che giorno siamo oggi non me lo ricordo aspettate che giorno siamo 27 maggio del 2019 ore 10 23 di mattina comunque ieri si è concluso il campionato di serie a finalmente che la finisce con molti epiloghi tra quelli che in coppa e quelli che sono retrocessi allora come tutte le ammene sapete tempo e infoli e in serie b fa in serie b con frosinone e chievo in c più di ieri si è concluso e perdetto atalanta e inter vanno in centro mentre in europa accade il milan roma e lazio vincitrice di coppa italia comunque l'ottima giornata è stata molto bella perché sono state delle belle partite a metà secondo tempo l'inter fuori il milan era dentro poi l'empo era salvo e il genova stava retrocedendo bellissimo campionato è stato fino alla fine poi l'inter ha vinto con gol di nainggolan e anche se il milan ha battuto lo spalle per 3 a 2 non è un successo che non contava perché rimane loro valinte l'atalanta ha battuto 3 a 1 il sassuolo grande zapata la mia juventus si congetta con allegri con una bella sconfitta purtroppo per 2 a 0 hanno debuttato ieri molti giovani come manolo portanova e come l'altro ha debuttato anche il nostro terzo portiere pinzoglio questo gioca sempre panchini ha vinto più di altri calciatori poi è stata anche l'ultima partita di daniele veros anche se è sempre avversario che ha sport ogni tanto